E benvenuti a questo nuovo episodio di Dragon Ball Boost Limit Buona visione Lo farò in modalità normale così miglioro un po' il voto anche Adesso te le do di santa ragione Pizzino vivo, accenna Continuiamo Ah sì eh Uh oh Mettete questo Buon viaggio Tutto il viaggio Ecco il bis E voilà Che botta Eh però sono potenziato un po' Tease Facciamo un po' di foto Aia Guardi Guardi Edetto Qui non è casseccato si e adesso pizza galattica rapica voilà battuto a colpi di pizza e passiamo al video successivo e questo lo farò in modalità difficile così ho meglio un po' di livello so that's freezing i see we're dealing with a real monster this time i thought we'd wipe out all of the necks but you're different from the rest you're not just another weakling of course that doesn't mean that you're a match for me now time to take out the space track time to take out the space track giusto no 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 Ragazzi, sto facendo come Ramper, allungo il braccio, il cavo più di pesa, e il DJ è un po' speciale, molto bello, non lo sento molto, ma non è speciale, via! Ho mancato, cavolo che diffusa, mecca questo calcio, e un altro, guarda, frattavo un terzo, si, ce l'ho fatta, cavolo! L'odio quanto a quella del mio superiore, poi no, dato l'ho beccato, è un racconto finale! Beccati, ho preso, beccati questo! Adesso te ne do, guarda, ma tante! Ma tante, che non dicono se nessuno, è questo! E vai, sistemato! Vediamo! 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 se me la cavo! Vediamo! 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 Ragazzi è diventato più brutto Vediamo se riesca a sopravvivere Ah, è un freezer Beh, non deve essere facile Finso Ma sì, eh Vediamo quindi come c'è la capi Mossa speciale Lo praticamente ho divosto Ora ce l'ho fatta Cavolo, che ce l'ho buttato in cielo Vai, che ce l'ho fatta Adesso, fazzotto Ok, che c'è la capi Ma è diventato Ma è diventato Beh, il freezer è giuro E ora come lo mettiamo? Beccati questo Buona resistenza Commesso Ma non due era ancora lungo Cavolo, volevo farlo precipitare io Ma vabbè Non importa Vai, è la tua fine E la capi È un'verso Io Non, non ti farò Ma non ti farò Ma non ti farò Ma non spero È un'verso Come lo Capolo IMPOSSIBLE! Well, well, it's been some time since I had to show some speed. Isn't it time you just gave up? Oh, my pain! Well, it's not good for me. Let's move to the next one. I'm using the gun so I'm using it. I'm using it. Let's move to the speed. Because if I'm using a speed that's too strong, I can't beat it. Perfetto. E così deve essere. Ma riscrivetevi anche a qualcuno che non deve essere entrato. E ciò! D'accordo! D'accordo! Bel colpo. D'accordo! 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 Cosa molto dura! A competizia vinto va! Scappi eh! D'accordo! D'accordo! Oh cavolo! Gli metto il colpo! Bene! e ora staccamare Beh, i sette minuti sono piccoli, mi ecco lo vanno tanto per la misura, no? Ehi, fino. Oh, oh. Ormai ho resistito. Oh, oh. Il ciappa dice con quel cervello adesso, se più il cinto, subito. E' una volta come lo chiedo, questa cosa. Ce l'ho, ce l'ho? Non ce l'ho. E' una volta come lo chiedo, come lo chiedo. Occhio! E' una volta a me. E' una volta che lo chiedo. E' una volta a me. E... 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 Gave... Everything I had! I can't tell you how easy it would be to annihilate all of you in this form! But I have something special in mind! My final transformation! Ha! My D. Form! Ehi ragazzi, questo episodio finisse qui, quindi ci vediamo al prossimo, che sarà veramente epico, ve lo garantisco, quindi ciao!